Ciao bambini, eccoci di nuovo qua dopo le vacanze di Pasqua, bentornati nella nostra classe virtuale. Eccoci, come sono andate le vacanze? Lo so, sono un po' strane, un po' particolari, chiusi in casa non sono esattamente le vacanze che ci aspettavamo, però già che sono vacanze un po' ci piace, no? Beh, torniamo a noi. Allora, abbiamo visto che nella Pasqua i cristiani manifesteggiano la resurrezione di Gesù. Abbiamo visto che Gesù viene condannato, o meglio, prima viene catturato, poi viene condannato, ucciso e poi Gesù risorge. Ma dopo che è risorto abbiamo visto che è apparso ai suoi. Vi ricordate? L'abbiamo visto nell'ultima lezione prima di Pasqua. Gesù appare ai suoi, ma non soltanto per farsi vedere e per far capire che è risorto, no, no, parla proprio e chiede qualcosa e promette qualcosa. E allora vediamo insieme la schermata che vi ho preparato. Ecco, qui ho indicato come titolo la missione della Chiesa. Capiamo meglio perché. Vedere Gesù risorto fu per i suoi discepoli un grandissimo dono. Prima di salire al cielo, egli affidò loro un'importante missione, portare a tutti la parola di Dio e battezzare le persone nel suo nome. Capite bene da queste semplici due frasi già tutto quanto. Gesù chiede qualcosa, cioè dà ai suoi una missione e ecco quella che resterà la missione della Chiesa per i secoli a venire, che è la missione della Chiesa anche oggi, cioè portare a tutti la parola di Dio e battezzare nel suo nome e al tempo stesso però promette qualcosa. Vogliamo vedere meglio che cos'è? Allora leggiamo insieme il testo del Vangelo. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Questi sono i versetti 19 e 20 del capitolo 28 del Vangelo di Matteo. Beh, Gesù non ha detto vi lascio soli, non ha detto andate, adesso vi do un compito, andate e fate. No, no. È una missione importante perché voi dovete capire che il contesto non era quello che abbiamo noi oggi. nessuno era cristiano, erano tutti ebrei. E tra l'altro, Gesù era una persona morta da poco, per cui credere in Lui non era semplice. Sì, è vero, aveva una grande fama, era diventato famoso, ma era una persona comunque contemporanea a loro e si fa sempre un po' fatica a credere a qualcuno che hai vissuto nei tuoi stessi anni. Beh, diciamo che ha dato una grande prova, una grande dimostrazione, non soltanto con le parabole e i miracoli come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, ma stavolta addirittura è risorto. Beh, diciamo che adesso è un po' più semplice, crede, nel Lui, no? Allora, vi do due semplici esercizi. La prima attività è quella di rileggere il testo del Vangelo di Matteo che abbiamo appena letto. Se avete una Bibbia in casa è meglio prenderla. Vi ricordo che siamo al capitolo 28, versetti 19 e 20 del Vangelo di Matteo. Se non avete la Bibbia potete rimandare indietro questo video e rileggere dalle schermate che vedete. Ecco, vi chiedo che cosa promette Gesù ai Suoi discepoli? Scrivetelo nel quaderno, poi tramite il registro elettronico rimandatemi una foto di quello che avete scritto. La seconda attività è questa, semplice semplice. Quali emozioni provi a leggere queste parole? E allora disegna un emoticon, una faccina, come quelle che si mettono sul cellulare, su WhatsApp, no? Quali emozioni, o eventualmente anche più di una, quali emozioni provi a leggere queste parole? Disegna le faccine e anche qui mandami una foto tramite il registro elettronico. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Ciao bambini!